Ciao a tutti i video amatori e tutte le video amatrici di Progetto Letteia.it Benvenuti in una nuova puntata della vecchia rubrica Deprogramma Deprogrammazione. Ci occupiamo di deprogrammazione neurolinguistica una sorta di retroingegneria del pensiero, della propaganda Lavoriamo su diversi piani, molti legati agli shock informativi alla propaganda che è diffusa, riveniamo indietro cerchiamo di capire anche grazie spesso all'etimologia delle parole qual è il vero significato di alcune parole che vengono frequentemente usate e che vengono frequentemente abusate soprattutto dalla propaganda, vedi propaganda industriale vedi propaganda in questo caso di oggi climatica perché vengono usate, le smontiamo cerchiamo di rimettere le cose al loro posto ridare il giusto significato alle parole per poter avere una comunicazione più chiara più semplice, più effettiva, più diretta e soprattutto non farci influenzare non farci programmare ma deprogrammiamoci noi noi stessi da tutto quello che è l'indottrinamento mediatico da tutto quello che è la propaganda in generale da tutto quello che è l'informazione che però non è informazione non è informativa ma è quasi disinformativa spesso legata a paure, terrore eventi catastrofici scenari apocalittici che si ripetono, ripetono, ripetono variando come abbiamo visto l'altra volta abbiamo visto i scenari dei scenari riguardanti alla propaganda climatica del raffreddamento globale quella del riscaldamento globale e quella del cambio globale cambiamento climatico tutte e tre legate a degli scenari catastrofici che non sono mai successi nella realtà sono solo successi nei film di Hollywood e anche in qualche film che di Hollywood non è bene oggi partiamo un po' analizzando l'etimologia ma in verità c'è poco da analizzare a livello etimologico ma c'è molto da collocare in maniera temporanea uno degli slogan più diffusi forse il peggiore quello più diffuso sia a livello internazionale che a livello sovranazionale che a livello proprio di propaganda come le etichette che troviamo in giro su alimenti su tutto oramai perfino sulle automobili sulle lavatrici o quella famosa banda colorata A A B C D E F eccetera 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 non metto troppe di queste cose in video perché se no questo video scompare e già l'altro è stato ben bannato ben bloccato in shadow ban per questo se non l'avete visto ve lo consiglio di andarlo a vedere proprio perché ce l'hanno bannato a priori vuol dire che è un video che va molto bene che è efficace e che le cose che sono dette lì sono non solo vere ma sono logiche perché in verità quello che faremo oggi non andiamo a fare un'analisi scientifica di quello che dicono e quello che invece non è vero delle previsioni non ci mettiamo sullo stesso piano ci mettiamo invece su un piano estremamente puramente di ragionamento logico di spirito critico e anche di come per dire come prendere un po' di distanza da quello che raccontano è vedere se effettivamente così come dicono guardando i fatti smettendo di guardare quello che la gente dice e guardando quello che la gente fa la stessa cosa succede per la propaganda la stessa cosa succederà oggi per alcuni di questi slogan prima però vedete qua il nostro caro amico super arrabbiatissimo e spaventoso spaventapasseri sociale che è la CO2 vedete che sono sempre arrabbiati legato a tutto quello che è dentro al frame per chi magari non ama gli inglesismi però è una parola che hanno inventato loro e bisogna dargli atto soprattutto gli americani il frame tradotto è cornice ed è una cornice chiaramente narrativa è una cornice all'interno della quale c'è tutta la narrazione legata allo spaventapasseri sociale che è la CO2 come capite dalla parola spaventapasseri sociale è una cosa legata all'idea è un sistema di notizie informazioni non sempre solo propagandate ma sono a volte anche studi comandati su misura scienziati che ottengono risultati determinati dai propri studi università che lavorano solo in una direzione la ricerca come è stata finanziata come è stata formulata perché è stata fatta una tipologia di ricerca per ottenere un certo tipo di risultato tutto è dentro questo frame narrativo questo frame narrativo ha la funzione di creare lo spaventapasseri cioè una figura come quella della CO2 in questo caso è utilizzata per tenere lontano il dialogo lo spaventapasseri rende molto bene l'idea perché tiene lontani gli uccelli che andrebbero a mangiarsi i semi diciamo è come fosse un campo dove però invece di esserci una guerra per i semi per il seminato c'è una guerra percettiva fatta da chi narra questo spaventapasseri e chi invece magari si colca fuori si mette fuori da questa questa narrazione e descrive la CO2 in una maniera diciamo differente da quella che è propagandata qui è sempre ad esempio legata a messaggi negativi possiamo scrivere qua è molto ovvio catastrofi distruzione fine dell'umanità ci estinguiamo il pianeta si distrugge riscaldamento proprio della terminologia che usano per descrivere questo questo spaventapasseri sociale e quelli che invece sono qua che invece sono i positivi o positivisti e qua sarebbe meglio negativisti ci sono i fan i fanatici del negativismo e sono i fanatici del positivismo dividiamoli insieme per schemi quelli che invece dicono ma la CO2 è sempre stata ma la CO2 è fonte della vita ma la CO2 serve alle piante per crescere no? e questi qua invece vedono solo il collegamento diretto causa-effetto che non esiste nella verità scientifica tra la CO2 e l'aumento delle temperature infatti è molto più probabile che sia il contrario cioè che sia l'aumento della temperatura che fa aumentare la CO2 anche perché se guardiamo i grafici veramente poi nella prossima puntata probabilmente le farò proprio sui grafici su come si può modificare un grafico o la percezione che si ha di un grafico bene ma oggi ci fermiamo solo a fare un po' di chiarezza su quello che è dentro al frame e su quello che è fuori dal frame dentro al frame e diciamo sulla cornice possiamo metterci già la parola propaganda perché è fondamentale senza la propaganda nulla di tutto ciò si potrebbe fare in verità e ci sono appunto due tipi di propaganda quella industriale e in generale quella climatica a volte si combinano si incrociano a volte una utilizza l'altra cioè si fa della propaganda climatica per vendere dei prodotti o a volte il contrario si fa propaganda dei prodotti per vendere la propaganda climatica un esempio il più eclatante di tutti è questo qua lo faccio qui sperando che si veda è questo qua avete già capito tutti di cosa si tratta è la nostra amica l'auto elettrica forse con tre prese è esagerato bisognerebbe fare la presa blu fatta meglio però facciamolo con due proprio come un'auto a pile bene quello è proprio l'esempio lampanto dell'incrocio delle due propagande cioè quella legata alla creazione di una minaccia climatica la soluzione è fatta nella propaganda industriale infatti una delle caratteristiche fondamentali della propaganda è proprio la semplificazione dei messaggi cioè cos'è la semplificazione è che il problema come dicono quelli che sono fuori da questo frame il problema della co2 del clima è molto complicato ma in tanti avete sentito dire guardate che non si può ridurre a co2 uguale riscaldamento riscaldamento del pianeta quindi smetto di inquinare domani si abbassa la temperatura è un'assurdità totale talmente tanto propagandata talmente tanto assurdo che non lo dicono neanche i fanatici più fanatici cioè non è che se domani smettiamo o compriamo tutti un'auto elettrica salviamo il pianeta né nell'elettrificazione di qualsiasi altro elettrodomestico in casa è collegato al salvataggio del pianeta è talmente idiota questa questa propaganda che deve lavorare su un'altra tipologia di messaggio cioè sulla semplificazione non può essere io adesso ho fatto la deprogrammazione cioè ho invertito la loro semplificazione l'ho tradotta nel messaggio in quello che loro vorrebbero farci credere cioè che basta comprare un'auto elettrica basta smettere di emettere CO2 e qui veniamo allo slogan di oggi dopo poi ci soffermiamo meglio basta fare zero emissioni e il problema è risolto molto facile in verità non è per niente così non solo non si risolve il problema ma è molto tutto è molto più complicato perché? perché ci sono dei meccanismi molto complessi in verità non è tanto complicato è complesso il sistema climatico terrestre non si può collegare non c'è l'interruttore CO2 più CO2 più caldo meno CO2 più freddo è una veramente mentalmente inaccettabile per chiunque ma questa cosa rimane fuori dallo schema cioè qua il nostro bel pianeta che gira che gira su un'asse che è inclinata in quest'asse che ha un'orbita che ci sono tanti fattori che in realtà incidono sul come il sole sulla temperatura sono i veri fattori che regolano la temperatura la CO2 non c'è tra questi qua non esiste tra questi qua non è ah non li vedete scusate che allargo un po' non vedete il mio orribile disegno del nostro pianeta tutto questo qui non c'è nella narrazione infatti è qua fuori chi cerca di spostare l'attenzione come me in questo momento su elementi che sono fuori dal frame viene subito additato come un complottista come un negazionista del clima come una persona pericolosa socialmente pericolosa i miei video vengono bannati il mio canale viene bloccato mi vengono persone troll arrivano sul mio canale che commentano in continuazione offendendomi direttamente ma è la mia famiglia tutti solamente per provocare no? perché così se tu rispondi poi loro aumentano la dose fino a denunciarti a farti chiudere il canale eccetera eccetera tutte tecniche che sono ben conosciute da tutti quelli che si trovano nella mia posizione ma poco conosciuti da chi sono dall'altra parte quindi oggi vi do anche un'infarinata generale su questa cosa qua ma il messaggio semplificativo cioè di semplificare questa situazione che è complessa appunto c'è la rotazione terrestre c'è l'orbita c'è l'asse di inclinazione c'è il conno rovesciato cioè il nostro asse non solo è inclinato di 23 gradi ma anche una gira su se stessa la terra tutto queste cose qui essendo della natura non sono perfette ha come lo stesso asse su cui noi giriamo ha come una piccola ridondanza cioè un piccolo errore quando arriva a un massimo di errore a un minimo c'è una glaciazione questi sono i cicli di Milankovic c'è la stessa cosa quando l'asse chiaramente si sposta e supera i 90 gradi quindi c'è l'inversione dei poli che è devastante come glaciazione c'è quella dovuta all'orbita solare anche lì è liscia massima è liscia minima c'è insomma ci sono tante cose c'è la radiazione solare dopo i fenomeni legati alla terra che sono quelli più per dire più importanti a livello proprio di fenomenologia di glaciazioni poi ci sono le glaciazioni meno importanti i cicli climatici meno importanti come quelli legati alle macchie solari insomma c'è tanto la CO2 non è tra queste non c'è per dire e questa cosa qui è sempre fuori perché? perché è positivista perché dà una soluzione che non dipende da noi dà una soluzione che non è legata alla narrazione climatica in soluzione a questa semplificazione la soluzione è proprio lì problema soluzione questa è la semplificazione che è estremamente che è una base della propaganda deve far combaciare il problema con soluzione una cosa che va detta subito è che nella stragrande maggioranza dei casi il problema che vorrebbero propagandare chi lo propaganda di solito è lui la causa del problema cioè lui ha creato il problema a volte anche completamente falso a volte c'è il problema è semplicemente cavalca un momento un evento catastrofico attuale lo cavalca per vendere una certa tipologia di propaganda per vendere dei prodotti legati alla soluzione del problema abbiamo visto negli ultimi 4 anni in una maniera incredibile non faccio altri nomi altrimenti il video si compare proprio me lo cancellano nel senso non faccio altri esempi di problema soluzione problema creato e soluzione venduta già dall'inizio l'avete visto che come arriva il problema hanno già la soluzione già pronta lì in giri pochi giorni settimane problema che nessuno sapeva che esistesse problema totalmente impossibile da risolvere a livello scientifico sentite la solita narrazione non sappiamo non sappiamo che cosa è successo non sappiamo come fare non sappiamo come curarlo non sappiamo come porre fine a questo problema che questo funziona anche con la co2 ufficialmente non sanno come finire se avete fatto caso tutti i vari sistemi di estrazione della co2 che negli anni 80 90 2000 quando all'inizio si parlava di questo spaventa passeri sociale c'erano tutte le varie soluzioni ogni giorno ne usciva una quelle piante le alghe metterla stoccaggi bla 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 tutto ciò è scomparso tutto ciò non esiste più nella narrazione è tutto fuori è tutto orientato fuori perché è positivo perché non porta soldi perché non è legato alla propaganda industriale non vi vogliono vendere niente non è legato alla propaganda climatica non fa paura non spaventa c'è la soluzione non va bene è tutto ben legato allo zero emissioni e qui ci dobbiamo fermare un attimo perché la propaganda è vero che ha una caratteristica un'altra caratteristica che è l'unilateralità cioè unilaterale va solo in un senso è un po' quello che in italiano si chiama ed è in italiano molto molto ben molto il termine rende perfettamente l'idea come pensiero unico la creazione di un pensiero che segue una linea e non ammette nessuna nessuna ideologia differente non ammette un dibattito non c'è assolutamente una paracondicio di messaggi l'unilateralità e lo zero emissioni è proprio l'esempio di unilateralità perché non ammette le emissioni la parola zero emissioni fa pensare alla neutralità climatica si chiama proprio così clima neutrale allora se noi ascoltiamo qualcuno che è fuori il CO2 è vita cioè senza CO2 il nostro pianeta sarebbe sterile in verità lo si dice proprio perché c'è stata un'epoca in cui non c'era il CO2 non c'erano vegetali non c'era piante non c'erano organismi non c'era una microbiologia era un pianeta sterile era causato dal fatto che si stava formando l'atmosfera si stava erosione vulcani che insomma era un'epoca molto lontana però la stessa scienza ci dice che senza CO2 non c'è vita ora lo zero emissioni suona molto come una sterilizzazione del pianeta perché? perché è fatto è accostato a un sistema produttivo industriale che quello odierno e anche quello futuro che in verità è impossibile che non emetta CO2 perché noi stessi emettiamo CO2 le piante assorbono CO2 e la emettono in certa parte molti fenomeni naturali emettono CO2 e moltissimi fenomeni naturali assorbono CO2 gli sbalzi di CO2 se guardiamo i loro famosi schemi che sono possiamo anche mettere qua dentro quelli tutti fatti così 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 poi così tutti i vari grafici è come è venuto in mente la parola ci sono tutti questi alti e bassi nella CO2 nella temperatura contrariamente a quello che si sta pensando adesso tutti questi alti e bassi ci sono stati senza che ci fosse l'emissione da parte dell'essere umano a livello industriale come c'è oggi quindi quello che si chiamerebbe cambiamento climato antropico cioè dovuto all'impronta di carbonio questi alti e bassi sono sempre stati storicamente sulla nostra terra senza che ci fossero le automobili tutto quello che si attribuisce oggi alla narrazione bene continuiamo a vedere un po' come funziona questo schema questo lo cancello perché mi faccio spazio per altre cose e vediamo che la propaganda industriale e la propaganda climatica per sostenere lo zero emissioni ha bisogno della creazione del nemico che è lui creare un nemico unico e invisibile è il sogno di qualsiasi elite che voglia controllare globalmente tutto quello che riguarda il consumo tutto quello che riguarda l'accesso ai beni ai servizi anche quelli basilari tutto quello che riguarda proprio il capitalismo del controllo che la verità è in verità è quello che stiamo vivendo adesso è proprio il sogno è un po' come la chimera di queste elite cioè la creazione del nemico invisibile e la CO2 è perfetta proprio è la perfetta è il perfetto nemico invisibile è quello che tutti possono combattere ma nessuno in verità ha mai visto e la come si fa a smontare questa narrazione è molto molto semplice basterebbe ad esempio che seguendo lo zero emissioni che lo attribuiscono spesso ad esempio le auto elettriche sarebbe molto interessante capire com'è fatta un'auto elettrica perché viene definita zero emissioni a zero emissioni poi vedete che spessissimo qui me l'ho dimenticato di metterlo c'è un asterisco sullo zero emissioni è un po' come quando vedete la pubblicità di una qualsiasi auto elettrica e c'è magari 410 chilometri di autonomia con l'asterisco o c'è un pieno vi costa l'80% in meno di quello che vi costerebbe con il vostro matore termico con l'asterisco perché c'è l'asterisco perché non è vero ma possono dirlo possono dirlo con l'asterisco quindi c'è una una cosa che è molto importante che in questo frame cioè la decontestualizzazione quello che in molti vorrebbero venderci come dentro un contesto molto spesso voi sentite usare il termine decontestualizzare cioè fuori contesto da chi fa debunking chi vorrebbe metterci dal lato della narrazione ufficiale e distruggendo quello che sarebbe la disinformazione e le fake news e fanno il fuori contesto non c'è cosa più fuori contesto che mettere insieme l'auto elettrica e lo zero emissioni è una cosa completamente sballata è una fake news tra le più grandi ma essendo i grandi gruppi industriali coinvolti pagando direttamente i governi quindi avendo un conflitto di interesse in atto perché gli stessi governi fanno propaganda industriale e fanno propaganda climatica per vendere i prodotti di alcune ditte perché il come si dice gli aiuti che ricevete per comprare un'auto elettrica ve li mette il governo perché perché il governo non finanzia la vendita di altri prodotti che faccio io ad esempio perché non vende non finanzia la vendita diretta ad esempio degli agricoltori dei loro prodotti direttamente al pubblico basterebbe che ci mettesse la stessa quantità di soldi che mette per vendere una macchina elettrica non c'è nessun problema il problema voi direte ma lo fanno per l'ecologia ma lo facevano anche nei diesel 15 anni fa no lo facevano per vendere più diesel 15 anni fa 15 anni dopo il diesel è il problema no succede più o meno esattamente come è successo per il riscaldamento il raffreddamento prima scusate il raffreddamento prima il riscaldamento dopo il cambiamento dopo succede per l'auto elettrica prima era il diesel negli anni 80 negli anni 90 chi ha la mia età se lo ricorderà benissimo quanto è stato propagandato il diesel quanto hanno puntato sul fatto che il diesel era da vendere era più ecologico si risparmiava consumava meno un'infinità di cose incredibili sono state dette sul diesel pur di venderlo perché non si vendeva una volta negli anni 80 perché non lo sapesse il 90% delle auto era benzina chi aveva un diesel era un rarissimo di solito erano i rappresentanti quindi facevano tantissimi chilometri all'anno ma nessuno nessuno anche loro a volte avevano l'auto a benzina non ci si fidava non aveva un riscontro insomma non lo vendevano per venderlo l'hanno detto di tutto di più quindi 10 anni dopo è il problema il diesel non potete oramai usarlo da nessuna parte se siete in una grande città e se non è un euro 5 6 7 insomma abbiamo visto tutti perché vengo all'auto elettrica perché è fuori contesto perché se noi andiamo a vedere quello che c'è dentro un'auto elettrica e cioè una media faccio una media do un po' di numeri ma fate finta che potrebbe essere benissimo altri numeri non è importanza in verità quello che vi sto dicendo a livello di dati è importante che seguiate il mio ragionamento puramente logico e puramente come una critica io non sono a favore dell'auto elettrica non sono contro l'auto elettrica l'auto elettrica ha sicuramente un impiego in certe dinamiche come possono essere i piccoli centri urbani molto sovraffollati con piccole vetture elettriche per chi fa piccoli tragitti anche quotidiani con un certo tipo di trasporto mezzi elettrici mi vanno benissimo non mi interessa ma non me la potete mettere a zero emissioni con l'asterisco 450 kg è una batteria media un pacco batteria media scusate 450 kg pacco batterie medie dovete anche pensare che insomma come si fa che cosa si utilizza per farlo che impatto ha creare 450 kg di batterie quindi di riempirle con tutto quello che ci va dentro tutti i vari metalli pesanti innanzitutto bisogna partire dal fatto che le batterie non creano elettricità perché c'è talmente tanta propaganda che sono le persone che sono convinte che una volta che comprano l'auto elettrica nell'immaginario collettivo una volta che loro comprano l'auto elettrica è come se l'auto elettrica producesse energia da sola ragionano come e infatti zero emissioni è catastrofico per come esce dal contesto e praticamente distrugge mentalmente le persone i fanatici di questa di questa tecnologia perché non riescono neppure a capire che l'energia che usate per muovere e per caricare questi 450 kg di batterie da dove viene perché se seguiamo e guardiamo la media mondiale europea il 70% 80% in alcuni casi in alcuni periodi dell'anno 90% dell'energia che noi utilizziamo viene da combustibili non riciclabili perché di fossile non si può parlare perché una parte del carbone è fossile una parte del petrolio è fossile un'altra parte non è fossile e qui vi invito a guardarmi un mio video vi iscrivete al mio canale ve lo guardate e ne ho parlato più e più volte del petro olio l'olio della pietra vi dico solo questo ma se no questo video è anche scompare ma tutto questo ragionamento deve includere e qui vengo alle persone che lo mettono fuori dal contesto non so magari molti che sono fuori dal contesto ad esempio non sono contentissimi dell'energia che viene da queste belle centrali no? queste fatte in questo modo qua atomiche per intenderci no? quanto è ecologica è sostenibile l'energia nucleare no? per carità io non sono ripeto né contro né molto tanto che l'ho messa fuori come energia positiva no? come fuori dal frame quanti considerano che l'energia che viene viene da nucleare viene dal carbone e a volte ci arriva al 90% che viene dal nucleare carbone o da generatori diesel l'eolico e il solare che anche se arrivano in alcuni periodi dell'anno in certe nazioni possono raggiungere anche il 25% dell'energia sono rare rarissime anche il 30% dell'energia nella realtà il problema è che per fare una pala elettrica una pala eolica o un pannello elettrico fotovoltaico sono state impiegate sono state bruciate tonnellate tonnellate di CO2 per farli per farli ascoltate bene per costruire un'enorme pala sono state impiegate tonnellate tonnellate di cemento tonnellate tonnellate di ferro alluminio resine tutte che derivano da la conversione tra energia fossile quindi combustibile fossili e non petrolio come abbiamo detto prima nucleare e carbone convertite in energia per costruirle ci sono delle ricerche che ci fanno capire che ad esempio un mulino a vento uno di questi mulini a vento vi do qualche dato visto che ci mettiamo un po' più di carezza pesa 1688 tonnellate equivale al peso di 23 case contiene 1300 tonnellate di cemento 295 tonnellate di acciaio 48 tonnellate di ferro 24 tonnellate di fibra di vetro e terre rare difficili da ottenere ognuna delle tre lame pesa 40.000 kg e ha una vita utile di 15-20 anni dopodiché devono essere sostituite per il momento non c'è nessun processo al mondo che riesce a riciclare una lama un'elica di queste di queste pale del rotore ora ci sono delle ricerche ad esempio che hanno calcolato che l'energia che ci vuole per costruire una pala una pala eolica è superiore all'energia che lei può produrre nei primi sei anni otto anni scusate nei primi sei anni otto anni quindi vuol dire che inizia ad essere produttiva dopo sei barra otto anni la vita media è di 15-10 in alcuni casi si arriva proprio i 10 anni in alcuni casi 15 quindi ci sono molti casi in cui la pala non ridà indietro l'energia che è stata necessaria per costruirla lo stesso ragionamento si può fare per il pacco batterie un pacco batterie di un'auto elettrica vi dico qualche media su 450 kg ne contiene 11 di litio 27 di nickel 20 di manganese 14 di cobalto 90 kg di rame 180 di alluminio acciaio e plastica più circa 6.000 singole celle all'ione di litio per produrre ciascuna batteria è necessario lavorare 11.000 kg di sale di litio 15.000 kg di materiale di cobalto 2270 kg di resina per il nickel 11.000 kg di minerale per il rame in totale una batteria per costruire una batteria un pacco batteria così vengono rimossi 225.000 kg di terreno ora che cos'ha di ecologico e di impatto zero di zero emissioni di sostenibile un'auto elettrica ve lo chiedo scrivetemelo nei commenti se riuscite a trovare una risposta tutto questo questa propaganda è talmente tanto accecata talmente tanto cecca che non riesce a vedere neppure che appunto le pale come disegniamo brevemente qua i pannelli disegniamo qua le batterie tutti i sistemi che ci servono per accumulare produrre gestire trasportare perché quando andate da una colonnina in una colonnina a ricaricare la vostra auto elettrica dovete sapere che la colonnina ha dei fili di rame grossissimi perché devono portare un amperaggio molto 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 grosso con delle distanze notevoli da un posto all'altro quindi per fare una colonnina non la si fa utilizzando i cavi normali dell'elettricità quindi ci sono delle modifiche c'è un investimento a priori a sotterraneo acquisto di cavi particolari insomma tutto ciò deve essere calcolato cioè il nostro amichetto qua che spaventa spaventa solo in maniera unilaterale cioè la narrazione concede l'atto terrorizzante il terrorismo il terrorismo mediatico che viene attuato quando si parla di certi argomenti è solo in una direzione ma se io facessi la stessa facendo della deprogrammazione io facessi lo stesso utilizzassi la stessa unilateralità per dire distruggere nel vero senso della parola mediaticamente a livello di informazioni l'eolico o il fotovoltaico vengo attaccato in una maniera selvaggia io ci ho provato più volte ci provo ancora lo faccio con dei post molto critici su youtube lo faccio anche con dei video e vengo attaccato in una maniera selvaggia semplicemente perché faccio notare che per produrre un pannello solare ci vuole talmente tanta energia bisogna talmente tanto fare investire in nuove tecnologie fare aprire nuove miniere tutto quello che sta succedendo ad esempio nel congo con più di 50.000 bambini che vengono impiegati nelle miniere di cobalto è una catastrofe sociale l'uso l'utilizzo e la richiesta ad oggi di batterie al litio è una catastrofe sociale in centrafica e anche in Cina è una catastrofe sociale di cui nessuno parla lì c'è un'omertà totale perché perché non perché inverte questa narrazione perché fa paura poi mette terrore crea scenari apocalittici io creo scenari apocalittici dicendo che in Africa c'è una catastrofe sociale dove bambini vengono impiegati 18 ore al giorno in delle miniere dove ne muoiono giornalmente dove scompaiono dove vengono pagati un dollaro al giorno dove vengono frustati subiscono le peggiori violenze perché dall'altra parte del pianeta quattro aristocratici medio-borghesi ipocriti e ciechi possano girare con la loro vettura elettrica e dire che è a zero emissioni che è ecologica che è sostenibile questo ragionamento è talmente tanto vietato che si sta muovendo dall'altra parte non sono io che mi sto inventando tutta questa notizia non sono io l'unico che la pensa così non sono io neanche l'unico che studia queste cose io le studio al mio livello altri ad altri livelli molto più tecnici anche del mio a me l'aspetto tecnico mi interessa ma fino a un certo punto e ad esempio c'è uno studio molto interessante dell'università credo che sia canadese l'università però adesso non mi ricordo che parla delle vetture termiche scusate bruttissime qua e delle vetture elettriche no questa è la nostra vettura termica ancora col fumo vecchia è distrutta questa è la nostra vettura elettrica hanno fatto uno studio hanno visto che se calcoliamo tutto il sistema c'è tutta la produzione tutte le fasi produttive perché guarda caso non erano state mai calcolate fino adesso quando sentite parlare appunto di questo schiamino che è fatto più o meno così a b c eccetera eccetera che misura la neutralità o misura le zero emissioni dell'auto elettrica lì in molti casi non è calcolata la produzione sono calcolate le emissioni post produzione cioè una volta che è uscita dalla produzione ecco che allora si può calcolare e si può dire se è inquinato o no bene hanno calcolato e hanno visto che un'auto elettrica se si include tutte le fasce tutta la loro produzione dalla A alla Z mettendo tutto dentro inquina cioè al momento dell'acquisto ha già emesso l'equivalente di CO2 di un'auto termica che ha percorso 150.000 chilometri è molto molto interessante questo ragionamento perché perché ad esempio io ho un'auto del 1999 che ha 148.000 chilometri e quindi adesso c'è nel 2024 quindi la mia auto ha 25 anni ha 148.000 chilometri quindi è sotto questa soglia qui quindi la mia auto diesel turbodiesel intercooler 19 è più ecologica di una nuova auto elettrica nei suoi 25 anni di vita io sono più zero emissioni che è un'auto elettrica acquistata oggi nel 2024 in settembre quasi ottobre questo per dire che se noi guardiamo esattamente le cose come sono usiamo la stessa le stesse logiche commerciali come abbiamo visto fino adesso lo stesso tipologia di ragionamento la stessa anche decontestualizzazione e lavoriamo su un altro canale fondamentale della propaganda che è l'emotività se ribaltiamo tutta questa narrazione tutto questo sistema che si trova dentro al frame noi lo facciamo uscire o almeno anche facciamo solamente distruggiamo l'unilateralità lo facciamo bilaterale facciamo veramente il par condicio io vi dico le cose come sono per la vettura elettrica però vi dico anche le cose come sono per produrla la vettura elettrica vi dico i lati positivi ma vi dico anche i lati negativi semplicemente facendo questo gioco di rimbalzo automaticamente si smonta dentro di noi tutta quell'idea che avevamo di informazione riguardante questo settore e crea in molti non sicuramente nella nella maggioranza perché molti di quelli che guardano questi video i miei video sono diciamo già un po' più preparati però sicuramente qualcuno si scioccherà crea uno shock questo tipo di informazione uno shock informativo perché perché si smonta una certa tipologia di narrazione c'è un effetto domino sostanzialmente cioè ok mi sto accorgendo che hanno fatto questa storia problema soluzione mi sto accorgendo che c'è una certa emotività in tutto quello che mi dicono mi sto accorgendo che forse non me la raccontano così ecco che allora ok cade il mito dell'auto elettrica cade il mito delle batterie cade il mito dell'eolico cade il mito del fotovoltaico con questo non vuol dire che io sono contro queste tecnologie tutt'altro ma devono essere contestualizzate in una maniera strutturale cioè bisogna metterle dentro a un strutturalismo che utilizziamo sia per la vecchia metodologia di produzione dell'energia che per la nuova solo in quel modo possiamo avere una giusta valutazione e capire se è il momento giusto di passare da uno all'altro o no o se vale la pena magari aspettare avere una soluzione migliore tanto per dire bene io sono arrivato alla fine di questa nostra piacevolissima chiacchierata spero che l'argomento vi sia interessato vi invito a iscrivervi alla piattaforma progettaleteia.it vi invito anche ad andare sul mio canale sfd deprogrammazione mentale su youtube ho anche un canale telegram nuovo molto nuovo che uso da poco andate anche sul canale telegram magari mi state mi state proprio vedendo sul canale telegram di progettaleteia.it magari mi state vedendo sul mio canale deprogrammazione mentale bene fatevi un giro in tutto quello che vi ho menzionato perché ne vale la pena assolutamente in più è tutto gratuito compreso progettaleteia.it è tutto gratuito il libro d'accesso su progettaleteia basta l'iscrizione sul mio canale youtube se vi iscrivete è un piacere è un bel segnale della vostra partecipazione del vostro apprezzamento vi do appuntamento alla prossima puntata di The Program di Davide Cenci grazie a tutti e a presto